La raccolta differenziata sta muovendo i primi passi a Mugia, sta infatti arrivando in questi giorni la lettera con la quale l'amministrazione comunale comunica i primi steps relativi all'avvio della raccolta porta a porta dei rifiuti sull'intero territorio comunale al fine di incrementare la raccolta differenziata favorendo il recupero dei rifiuti e quindi la tutela e il rispetto dell'ambiente. Il nuovo sistema di raccolta prenderà avvio il primo marzo 2018. A tal fine saranno organizzati degli incontri informativi sul territorio comunale per spiegare il nuovo metodo di raccolta. Gli incontri si svolgeranno alla presenza di una rappresentante di NetSPA, società alla quale è affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che illustrerà nel dettaglio le novità del sistema e le regole di conferimento dei rifiuti. Gli incontri informativi si terranno secondo un preciso calendario, mercoledì 31 gennaio 2018 alle ore 17.30 ad Aquilina presso il centro parrocchiale Casa Primavera, mercoledì 7 febbraio 2018 alle ore 17.30 presso la scuola materna il Giardino dei Mestieri di Fonderia, mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Palazzo Milo di Piazza della Repubblica 4, venerdì 23 febbraio 2018 alle 17.30 a Chiampore presso la scuola materna. E proprio in questi giorni la società NetSPA tramite propri incaricati dotati di tesserino di riconoscimento ha iniziato a provvedere a distribuire casa per casa alle utenze del comune di Muggia il materiale necessario per l'espletamento del servizio, consistente in contenitori, sacchetti, materiale informativo e calendario di raccolta rifiuti. Con l'introduzione della raccolta porta a porta verranno eliminati tutti i cassonetti stradali attualmente presenti sul territorio comunale, pertanto a far data del primo marzo 2018 gli stessi non saranno più presenti ed inizierà il nuovo sistema di raccolta. Vista la grande sensibilità dimostrata dai cittadini muggesani nel tema di rispetto dell'ambiente e del territorio, si confida nella partecipazione numerosa alle serate informative, certi che ciascuno parteciperà attivamente al cambiamento adottando comportamenti rispettosi delle nuove regole di conferimento a beneficio di tutti i concittadini dell'ambiente. Per richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti la società NetSPA ha espresso la propria piena disponibilità, basterà quindi confrontarsi con la gestoria del servizio di raccolta attraverso il contatto si portato sul materiale sull'avviso di consegna ricevuti. Grazie. Grazie.